E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti sono in FOMO mode al 100% di corsissima stavo guardando stavo continuando a rifresciare twitter per vedere se qualcuno diceva qualcosa insomma sul listing di coinbase che dovrebbe essere imminente mi sa che ce lo becchiamo in diretta doveva avvenire all'apertura cioè tutti se lo aspettavano all'apertura del mercato americano di oggi ma sapete come funziona non lo sapete immagino come funziona i direct listing non hanno un orario specifico quindi sapete che la vendita cioè lo sbarco di coinbase sul nasdaq che è la notizia del giorno di oggi che tra poco magari andiamo ad approfondire non è una IPO classica quindi non è la tipica vendita iniziale di azioni con il listing in seguito sull'exchange ma è un direct listing ovvero la vendita era già stata effettuata privatamente in passato e adesso manca appunto lo sbarco sull'exchange pubblico che sarà per l'appunto il nasdaq doveva avvenire non si sa bene quando ma oggi e quindi sono tutti siamo tutti qua ad aspettarla ecco vi ho fatto un breve riassunto pieno di hype pieno di fomo penso che sia abbastanza palpabile nel frattempo vi ho lasciato qui dietro il grafico della pre pre market pre IPO pre listing chiamiamola come vogliamo che è a disposizione su FTX perché insomma lo saprete se mi seguite l'abbiamo detto anche le scorse volte FTX è già da tempo che ha messo a disposizione ha aperto il mercato di questo pre IPO contract l'ha chiamato che sostanzialmente è una scommessa sul prezzo delle azioni una volta che arriveranno a mercato stamattina è stato fatto lo split tra l'altro perché prima su FTX funzionava che c'era che questo contratto aveva il prezzo di un 250 milionesimo della capitalizzazione e stamattina è stato fatto lo split affinché questo un contratto adesso valga come un'azione di Coinbase che equivale a un rapporto leggermente diverso ma non molto sta di fatto che possiamo andare anche a vedere i dettagli su FTX per capire a quanto sta stimando il mercato la capitalizzazione attuale di Coinbase prima del listing facciamo un semplice calcolo ecco vedete è non lo vedete in realtà perché c'è davanti la mia faccia adesso ve la tolgo così lo vedete anche voi facciamo un attimino così allora come potete vedere qua sulla destra ho aperto FTX e dice che un'azione di queste qui tradabili su FTX è 1 fratto 261 milioni e 300 mila della capitalizzazione quindi sostanzialmente se facciamo il prodotto di allora facciamo un attimo di matematica 462 per 462 per 261 300 mila viene all'incirca 120 miliardi di capitalizzazione le ultime stime gli ultimi prezzi secondo i quali appunto cioè gli ultimi prezzi divulgati ai quali verrà iniziato il trading dell'azione Coinbase sul Nasdaq la vedevano a circa 90 miliardi quindi secondo il pre market secondo i trader di FTX sarà un prezzo che aumenterà molto retentinamente staremo a vedere sono curioso proprio di vedere quando arriverà ufficialmente sul Nasdaq beh adesso provo a darmi un attimo una calmata e a uscire dal momento FOMO perché noi insomma siamo qui come al solito per scambiarci domande per vedere un po' come va il mercato di Bitcoin al di là del listing al di là di tutto e quindi per fare una panoramica sul mondo delle cripto di questi ultimi giorni di oggi di ieri insomma dall'ultimo live oggi cos'è cambiato come stanno andando le cose fare qualche proiezione guardare i livelli chiave ipotizzare posizioni eccetera 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 secondo voi vi faccio una domanda brucia pelo dato che tra poco vi leggo leggo le vostre risposte leggo quello che avete da dire secondo voi il listing di Coinbase che effetto avrà sul breve barra lungo termine su Bitcoin cioè sarà un causerà un pump immediato sarà positivo sul lungo termine basta ditemi la vostra nel frattempo io inizio a buttarvi lì due cosine che ho trovato allora la prima riguarda gli ETF di Bitcoin in fase di accettazione un altro dei trend in atto al momento sui quali si specula molto è proprio quello degli ETF su Bitcoin che sono in coda per l'approvazione alla SEC cioè è stata mandata la domanda e adesso la SEC dovrà rispondere ce ne sono 11 in coda ok sono questi che vedete qua Vanek, Valkyrie, NYDIG, Wisdom3 insomma tutti i principali fondi l'ultimo è stato Galaxy Digital l'altro ieri si sono buttati si stanno buttando nel mondo degli ETF su Bitcoin vogliono erogare appunto il loro ETF perché è un mercato che è impossibile ignorarlo sta crescendo in continuazione e quindi io sto immaginando anche l'effetto che potrebbe avere poi un'eventuale approvazione di massa da parte della SEC cosa che è stata negata se vi ricordate gli scorsi anni di ETF su Bitcoin perché questi sono tutti come si suol dire physically backed ovvero acquisteranno Bitcoin per poi vendere le quote ai loro clienti quindi creeranno altra domanda e di fatto andranno a creare una pressione d'acquisto su Bitcoin se ovviamente questo prodotto avrà successo tra i clienti cosa che mi aspetto accadrà perché questo è veramente un periodo storico in cui è difficile non essere bullish e insomma ve lo dico da persona razionale poi sempre riguardo il token cioè scusate l'azione di Coinbase Binance che ha iniziato a offrire le cosiddette stock tokens che altro non sono che appunto delle azioni tokenizzate frazionabili fino a un centesimo ho dedicato il video di ieri a questo tema perché mi avete bombardato di domande dopo Tesla arriverà proprio Coinbase subito dopo il listing arriverà anche su Binance poi una cosa che secondo me non conoscete ve la butto lì perché me la stavo studiando un po' in questi giorni e mi incuriosisce sempre di più è un progetto che si chiama Torchain, la coin si chiama RUN e sostanzialmente è un progetto basato sui pool di liquidità crosschain cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica loro hanno dei pool di liquidità, il classico DEX, che però sono nativi crosschain ovvero ci sono dei pool con dentro bitcoin e un'altra coin, dei pool senza dover fare tutta quella parte di tokenizzazione e di crosschain proprio perché ce l'hanno nativamente loro è un progetto che reputo molto interessante e ve ne parlo oggi perché oggi ha lanciato una mainnet iniziale di test in realtà dove ci sono dei limiti di volume perché appunto è una fase di test prima viaggiava sulla Binance Chain e adesso c'è questa ChaosNet, la chiamano, che sostanzialmente è la loro prima mainnet in ogni caso RUN sta correndo parecchio e visto che lato fondamentale io ci vedo una possibile crescita abbastanza importante l'ho aggiunto alla watchlist, non l'ho ancora toccato, ve lo dico, proprio perché oggi tra l'altro è abbastanza intoccabile è molto molto esteso, però l'ho aggiunto alla mia watchlist perché mi sembra veramente interessante lato fondamentale soprattutto e poi adesso vediamo, lasciamo finire questa fase di test e se poi sarà utile e interessante potremo anche approfondire il liquidity mining su di esso, vedere quanto rende, che i py ci sono e così via bene, questo è tutto quello che vi avevo da dire direi che possiamo chiudere queste finestre, facciamo un ultimo refresh così su Twitter per vedere se Coinbase è arrivato oppure no dunque, boh 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 boh, vabbè, avvisatemi voi, facciamo così perché altrimenti io ci perdo veramente la giornata adesso io arrivo da voi e andiamo a rispondere a un paio di domande hai sentito parlare del progetto Mina? Assolutamente sì, me l'avete chiesto in tanti anche questo si tratta di una blockchain che promette di essere ultra leggera per poter essere utilizzata anche in parti del mondo in cui non si hanno connessioni e hardware super performanti e userà Rune per funzionare che oggi sta pompando, ne sai nulla? allora di Mina no, di Rune sì, come ti dicevo prima soprattutto perché oggi ha lanciato appunto questa net, questo network e questa mainnet di prova che se avrà successo, se funzionerà, potrà creare veramente dei pool di liquidità cross chain a basse fee con tanti tanti incentivi per essere utilizzati però di Mina non so ancora niente devo approfondirlo, ce l'ho nei compiti a casa perché già me l'avete segnalato ciao, puoi spiegarmi eventualmente con un esempio l'impermanent loss e quando può provocare danni irreparabili all'investimento allora l'impermanent loss la affronti quando vai a dare liquidità a un pool ad esempio su Uniswap, su Pancakeswap, eccetera 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 in particolare quando vai a dare liquidità a un pool con due coin volatili perché? perché l'impermanent loss si chiama anche divergent loss, molti la chiamano così il motivo è che è proporzionale a quanto divergono le due coin nel pool in prezzo ti faccio vedere con un simulatore che è molto più semplice che dirlo a parole se vai su CoinMarketCap e clicchi Yield Farming qua vedi che ti apre a parte un bel prospettino molto interessante sui farm attualmente disponibili e quanto rendono di APY e poi qua vedi il tuo bel impermanent loss calculator allora in sostanza qui nel pool weight devi sempre lasciare 50 e 50 se usi i classici pool Pancakeswap, Uniswap, Sushiswap e simili perché sono pool 50 e 50 supponiamo di avere due asset nel pool di cui uno è una stable coin, caso semplice e quindi price change sarà sempre 0 perché è stable l'asset 1 supponiamo che è Ethereum e ti fa più 10% 0,11 di impermanent loss sul capitale complessivo quindi tu hai messo 10.000 nel pool Ethereum USDC nel momento in cui tu vieni a staccare, a togliere la liquidità Ethereum ha fatto il più 10% tu avrai guadagnato perché di fatto è riesposto a Ethereum e quindi il valore della tua liquidità è aumentato però poi hai un danno dello 0,11% dovuto alla impermanent loss chiaro? se tu hai una perdita del 10% hai lo 0,14 quindi in perdita è un pelino più alta la impermanent loss se hai due asset che cambiano entrambi di valore quindi Ethereum fa meno 10% Bitcoin fa più 20% e hai un pool Ethereum Bitcoin avrai l'1,03 di impermanent loss comunque ci puoi giocare con questo calcolatore la cosa importante da capire è che vale tra l'istante temporale in cui metti liquidità e l'istante temporale in cui togli liquidità se nel frattempo Ethereum ti fa più 30% poi ritorna al prezzo di partenza l'impermanent loss si annulla perché vale T0 e T finale da lì appunto il termine impermanent spero di essermi spiegato procediamo con le altre domande allora a quando un video su Popsicle che cos'è Popsicle? adesso me lo devi spiegare ciao Luca se dovessi entrare in maniera pesante 20.000 euro preferiresti Ethereum o Bitcoin per un hold prepotente? allora io farei un misto personalmente per come sono fatto io farei in parte Bitcoin in parte Ethereum con una proporzione conoscendomi 80-20 o 75-25 questo ovviamente è il mio parere tu devi considerare quanto innanzitutto credi in una coin e nell'altra quello è un investimento quindi devi decidere tu come andare a come dire a diversificare nelle due coin coin è live attenzione è arrivato Coinbase vediamo cosa sta succedendo qua mi state segnalando che è partita vediamo rifresciamo Twitter non sono tutti impazziti OpenNow 388 388 che vuol dire che la capitalizzazione è non lo so non lo so vediamo vediamo andiamo a vedere il qua c'è il grafico Nasdaq eccolo qua 404 al momento ed effettivamente si sta allineando come vedete a quello di FTX teniamoli allineati vediamo confrontiamoli entrambi Coin USD eccolo vediamo un'ora allora 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 e ha avuto un altro dampettino perché questo su FTX prima era un po' più su però adesso vediamo io mi aspetto una volatilità pazzesca vediamo un po' come si conclude la giornata di oggi e soprattutto con che volumi sono veramente curioso di vedere cosa succederà Bitcoin come ha reagito come sta reagendo non sta reagendo meno 0,5% è sempre a 63.300 vediamo sono curioso di vedere anche Bitcoin come reagisce in ogni caso tornando a noi stavamo parlando del discorso di come diversificare una somma tra Bitcoin ed Ethereum dipende dall'esposizione al rischio Ethereum è più rischioso di Bitcoin ovviamente perché è più volatile e da quanto in realtà uno crede in una coin o nell'altra perché uno può dire boh io voglio espormi solo a Ethereum assolutamente possibile dipende appunto da quello che si vuole ottenere allora coprendosi con lo short su Radium Solana quanto può incidere al massimo il funding su FTX allora e può incidere può incidere perché se di fatto ti inizia a diventare sempre contro quindi ti inizia sempre a far pagare gli short contro i long ti incide anche parecchio quindi attenzione va monitorato assolutamente nel caso in cui pagassi tutti i funding ai long di quanto sarebbe la percentuale massima che si rischia purtroppo non si può sapere a priori perché il funding è variabile proprio in base alla domanda e all'offerta del perpetual quindi tu puoi semplicemente andarlo ad osservare stimarlo e se vedi che ne so che per un tot di giorni ti continua a caricare su di te magari può valer la pena chiudere la posizione si può ragionare in una maniera del genere poi 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 sono gasatissimo per ice di popsicle finance una defi cross chain su phantom bsc e ethereum hai provato a darci un'occhiata ragazzi qua c'è un nuovo compito a casa mi sa ma avete super triggerato popsicle me lo scrivo immediatamente perché quando mi dite che c'è cross chain phantom bsc tutte queste cose belle a me ispirano parecchio allora oggi sono arrivato più in ritardo di luke male 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 conosci qualche gioco stile alien world ma che deve ancora esplodere ma alien world è appena uscito dagli tempo cioè deve ancora dimostrare tutto anche lui binance coin salirà grazie a coinbase bella domanda anche questa tra l'altro su binance è già stata vediamo listata coinbase che ho visto che dicevano che subito dopo loro ci si fiondavano e secondo me loro avevano già le azioni in pancia quindi dovrebbe essere veramente questione di minuti anche perché il buon cz non credo si vorrà perdere questi volumi poi evviva primo live ora mi abbono grande benvenuto benvenuto tra noi ciao luca un tuo parere su matic positivissimo il mio parere su matic come tutti le year 2 al momento sono assolutamente un trend allora a me spiace adesso dover aprire un altro facciamo così è che no perché qui ho il mio layout vabbè torniamo a noi torniamo normali perché volevo vedere matic visto che me lo chiedete perché nonostante il progetto sia interessante il grafico è un po' dormiente dormiente ma non per questo non potenzialmente utile per andare a grattare qualche posizione ad esempio guardate che occasione c'è stata su matic da poco guardate qua qua abbiamo un bel pool di domanda che è andato vedete a fare di nuovo da supporto proprio qui in questo flash crash i flash crash che ci sono sono sempre delle super occasioni per andare a tenere qualche limit order nei pool di domanda nei supporti che sono un po' distanti un po' sottostanti in particolare a patto che ci sia una struttura rialzista sul trend in questo caso come vedete avevamo il vecchio top che ha creato il pool di domanda rotto a rialzo poi avevamo la fase di storno ed era veramente un'occasione d'oro 1 e 1 2 questo è un altro supporto d'oro in caso di flash crash fatto sta che è ancora valida quest'area come area di potenziale accumulazione si va a mettere poi uno stop loss eventualmente qui o se chiudiamo troppe volte qua sotto le candele giornaliere e ci si protegge con un relativo basso sforzo matic al di là di tutto è utilizzato cioè sempre di più da applicazioni del mondo gaming che sono interessati alla velocità e abbandonando quindi temporaneamente ethereum ma anche da alcune applicazioni defy ne avevo vista giusto una stamattina ma non mi ricordo qual era mea culpa mea culpa in ogni caso è un progetto vivo e vegeto poi procediamo nel mio portafoglio c'è una piccola parte destinata all'investimento su possibili gem e quindi posso destinare importi esigui almeno inizialmente a cui no e quindi ok da 10 euro in giù di conseguenza ho visto che uniswap non è conveniente per le fib da 10 euro in giù direi proprio di no mentre su coinbase e binance non trovo le coin in questione ad esempio shopping che coin è ma che coin è domandone sai consigliarmi qualche exchange non scam e affidabile gate kucoin o quale altro allora guarda attento agli exchange con le cosiddette gemme perché di fatto il rischio scam è altissimo io ti dico per esperienza evita come la peste hit btc perché ho sentito solo pessime esperienze kucoin invece lo reputo valido non so se qualcuno di voi può dare qualche come si dice qualche esperienza qualche opinione oppure se ci può anche condividere qualche exchange utile allo scopo ti direi pancake swap se la trovi su pancake swap però mi sembra che stai parlando di coin che conosci solo tu non so dove le hai trovate quelle coin lì in ogni caso uniswap non fa assolutamente per te poi sul discorso delle gemme si potrebbe parlare sul fatto se ne va la pena oppure no sai come la penso cioè è un po' il discorso della scommessa però non voglio permettermi di giudicare le scelte altrui ciao luca come stai sto seguendo da un po' balancer e come progetto mi piace appena rotto un triangolo e volevo un tuo parere sul grafico allora su balancer hai la mia approvazione non totale di più perché anche a me piace da impazzire volevo fin fare un video di approfondimento per quanto riguardi il grafico effettivamente sta adesso tu magari lo guardavi versus usd guardandolo versus btc sta facendo un bel costruttino di bottom che se lo va a rompere caspita potrebbe dare una bella botta di energia tra l'altro se non erro è su coinbase io mi stavo domandando vi butto lì questa cosa cioè secondo voi è una mia pippa mentale o ha senso cioè stavo pensando magari gli investitori adesso si buttano su coinbase si scopre coinbase le masse scoprono coinbase e magari le altcoin presenti su coinbase potrebbero avere un effetto pump secondo voi non lo so mi stava passando per la mente questo pensiero ma è un pensiero insomma delle sette e mezza di sera dopo una giornata abbastanza impegnativa quindi non dateci troppa importanza tornando a balancer che è una delle coin se non erro presenti su coinbase vedo che come vi dicevo abbiamo da sfidare questo pool di offerta che è un po' l'ultimo ostacolo che si configura qua tra gli 0.0011 e 0.001186 lo facciamo bello rosso come l'offerta rosso sangue se lo rompiamo assolutamente si spalancano le porte per un setup long guardate molto bello perché è duraturo questo bottom qualora dovesse funzionare e noi andiamo volendo a configurare un entry da queste parti poi la configuriamo meglio quando e se succede il breakout lo stop loss lo possiamo mettere o qua sotto o comunque al riassorbimento e abbiamo una posizione tutto sommato a rischio estremamente contenuto moderato e quindi assolutamente positivo Bal Uzdt visto che tu mi avrai chiesto secondo me questa qui visto che parlavi di triangolo secondo me il triangolo che intendevi cos'è una cosa di questo tipo che effettivamente sembra rotto a rialzo effettivamente sì però considera che qua dentro c'è anche la componente bitcoin quindi magari nei giorni scorsi oggi no perché oggi bitcoin è rosso lievemente rosso però di fatto magari nel trend dico generale l'effetto bitcoin è palpabile più che sul grafico alt btc e questo è il motivo per cui io tendo sempre a prediligere per le analisi i grafici altcoin bitcoin torniamo a noi allora tra l'altro oggi all time high anche di viewers 1100 e oltre bravi mi piacete così gasati ai massimi un pool di stable su pancake swap ha un rapporto rendimento rischio maggiore o minore di un liquid swap su binance chiaramente il rischio è maggiore ma magari viene compensato dal maggiore rendimento bella domanda il rischio è maggiore sono completamente d'accordo anche se ormai pancake swap ha talmente tanta liquidità che a me viene da pensare che sia difficile che non abbiano ancora provato ad accherarlo se devono farlo e comunque che non riesca a ripagare gli utenti se dovesse venire accherato quindi la mia personale opinione su pancake swap è che il rischio è basso al momento il rendimento è eccellente poi sui pool di stable se non erro ci troviamo sul 20% perché io sono un grande utilizzatore dei pool di stable su pancake swap mentre sul liquid swap di binance è più o meno la metà fammi controllare guarda visto che non vi voglio dare numeri a caso tanto refresciamo vediamo se è arrivato coinbase non ancora cz cosa aspetti allora finanza binance no scusate liquid swap vediamo un po' stable stiamo parlando di 4,5 più 11 ah non è vero adesso che c'è il farming è un po' più alto ma sai cosa ti dico che forse è che qui è più volatile sul liquid swap è più volatile il rendimento tra i due io li metto allo stesso livello ti dico così guarda leggermente forse più alto in termini di rischio il pancake swap ma anche il rendimento tendenzialmente è un po' più elevato quindi io ti dico così stesso livello top beccati questo allora torniamo a noi torniamo alle domande belle fresche dunque 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 ciao luke primo live mai provato krill come bot smart sto cercando un parere autorevole non lo conosco e ti dico fai attenzione a chi ti vuole vendere bot cose strane perché lo scam è dietro l'angolo mi raccomando di fidare fino a prova contraria è meglio di fidare di più che fidarsi troppo attenti agli scam perché adesso che c'è il bull market gli scam si sono moltiplicati ci sono scam a ogni angolo attenti alle rendite passive attenti a chi vi propone mining a chi vi propone bot arbitraggi tutte ste porcate qui stateci lontani tricomas no è legit tricomas è positivo ecco allora 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 binance coin salirà grazie a coinbase c'è una speculazione che effettivamente compara binance coin ftt le coin degli exchange al discorso della fomo su coinbase e è un discorso a mio parere sensato però contestualizziamo nel senso bnb ha fatto già una volata che è devastante guardate tra l'altro noi avevamo individuato vi ricordate questo pool di domanda nella scorsa analisi nella quale abbiamo dedicato più o meno 10 minuti un quarto d'ora tutti a bnb e di fatto rimane apparentemente valida attenzione però perché ieri ha chiuso un engulfing bearish quindi secondo me questo per un po' rimane un top dobbiamo un po' vedere come si comporta adesso quindi io frenerei un attimino la fomo su bnb di fiondarsi dentro ciecamente perché perlomeno mi aspetto un attimino di lateralità vediamo sta di fatto che se uno vuole grattare una posizione long il prima possibile con aggressività rimane questo pool di domanda sulle 4 ore che avevamo visto la volta scorsa qua c'è una shadow non la vedete ma c'è ci ho messo sopra il rettangolo e nasce proprio da lì il pool quindi tra 0.008 e 0.00831 benissimo sono andato anche un po' off topic ma visto che chiedevate di bnb io non farei delle illazioni cioè secondo me è sbagliato anche acquistare una coin fare un investimento basandosi su un'ipotesi dire secondo me coinbase farà pompare bnb allora compro bnb perché capite bene che mi sto basando su un'ipotesi che è un po' basata sul caso dai diciamoci la verità poi se succede uno dice sono un genio se non succede uno dice ma cosa mi è venuto in mente quindi è una di quelle classiche ipotesi validabili solo col senno di poi io personalmente tenderei ad evitarle poi allora 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 pump immediato sui toro era partita era partita a 2.50 sui toro ma non l'ha listata a 300 320 340 cos'era dunque sarà positivo sul lungo termine basta altrimenti il pump o il dump lo avrebbe già fatto sì effettivamente la notizia non dovrebbe essere cioè era in parte già apprezzata perché si sapeva che veniva listato oggi però non si sapeva quanto il mercato lo valuterebbe perché ragazzi cioè rendetevi conto di sta cosa adesso ritorniamo un attimo a darci un'occhiata a coinbase stiamo parlando di vabbè adesso è tornato un po' sulla terra 400 che non ricordo quanto equivale di capitalizzazione ma secondo me abbiamo già superato i 100 miliardi è così cos'era la moltiplicazione dunque dunque non si può tornare indietro no è nella calcolatrice perché volevo vedere perché vi volevo far vedere questa questa cosa cioè prendete ad esempio Goldman Sachs market cap quanto ha di capitalizzazione dunque 115 miliardi cioè pensate che figata sarebbe se oggi Coinbase chiude che capitalizza più di Goldman Sachs cioè al giorno 1 del listing è proprio un bel dito medio alle banche incredibile e io andrei a letto felice probabilmente perché mi gaserebbe un sacco sta cosa quindi forza Coinbase siamo tutti con te poi continuiamo un attimo damperà perché dalle 13 in poi è già stato tentato il dump su tutte le cripto però poi hanno posticipato il listing dici ma non lo so vediamo vediamo il listing di Coinbase è paragonabile al pizza day vedi è un giorno storico questo quello di sicuro ciao Luke per colpa tua sono diventato un cripto gasatissimo accanito dipendente dai tuoi contenuti a me non può che fare piacere ecco grandissimo conosci Synthetix ci mancherebbe altro pensi che con la tokenizzazione delle azioni perderà molto valore il progetto ma assolutamente no perché di fatto Synthetix lo fa in maniera decentralizzata quindi anzi potrebbe acquistare valore il fatto di rendere più diffuse più legittime le azioni tokenizzate cioè Synthetix lo fa in maniera decentralizzata l'exchange lo fa in maniera centralizzata è un po' come paragonare USDT a DAI ok c'è questa grossissima differenza Synthetix è un progetto pazzesco Binance Coin salirà grazie a Coinbase? è la domanda del giorno questa vi ho già risposto secondo me non c'è diretta connessione cioè è più speculazione che altro ciao Luca su RSI la divergenza grafica un giorno è ancora presente cosa ne pensi? ma guarda ne penso che al momento Bitcoin deve tenere perlomeno il suo nuovo massimo dai se lo tiene e non lo assorbe ma non vi spoilerò ancora l'analisi perché la facciamo dopo la situazione rimane positiva vediamo vediamo un po' anche Bitcoin come chiude oggi perché c'era anche lì un po' di fomo dovuta a Coinbase voglio vedere come reagisce il mercato oggi è una di quelle giornate incerte no? dubbiose dove ci sono eventi esogeni che vanno a influenzare il prezzo e quindi diventa complicato difficile seguirlo con razionalità cioè anche prendere posizione diventa difficile perché può succedere una cosa strana tipo che adesso Coinbase Coinbase non lo so pompa e viene valutato 200 miliardi e magari Bitcoin pompa o magari Coinbase viene valutato 50 miliardi in chiusura e Bitcoin dump quindi attenzione perché ci sono questi eventi esogeni che sono difficilmente controllabili e io di solito quando ci sono delle notizie che possono spedire il prezzo in una maniera imprevedibile come oggi io evito di prendere posizione questo è un po' il mio approccio ecco progetto Rune oggi tutti gasati con Rune ma chi è che ve l'ha detto che è sta storia che lo sapevate già mi offendo pump di Bitcoin non lo so sinceramente una minima influenza potrà esserci ma più che altro l'iniziativa di Coinbase potrebbe essere presa in esempio se avrà effetti positivi su di esso secondo me guarda sarà il primo exchange azienda comunque del settore crypto a quotarsi in borsa qui ne seguiranno tante tante altre e questo io credo che aiuterà sicuramente a sdoganare ancora il settore magari ad accettarlo un po' di più e a vederlo meno come un qualcosa di spaventoso ciao Luca perché i cro restano allo stesso prezzo o salgono poco e caro mio mi piacerebbe poterti dare una risposta ma di fatto poi cosa ci lamentiamo cioè bellissimo il grafico di cro aveva fatto un triangolo che poi era stato apparentemente rotto a ribasso ma poi l'ha recuperato e quindi cioè continua questo scenario dai non ci si può lamentare del grafico di cro se adesso va a romperlo a rialzo il tutto diventa molto bello perché qua ci ha fregato ha fatto un falso lower low tipico tipico delle crypto e poi è ritornato all'interno dei ranghi e adesso sta sfidando la zona di top quindi se la rompe rompe di fatto questo cioè termina il pattern triangolare e quindi dà possibilità di costruire una posizione long appena possibile ovvero al primo ritracciamento oppure alla prima lateralizzazione il classico il classico setup long dopo un breakout importante altrimenti se dovesse flettere un attimino si può riprovare a costruire la posizione sul triangolo in anticipazione con i dovuti crismi perché ci ha già fregato una volta se uno mette lo stop loss esempio se uno metteva lo stop loss qua sotto prima illuso da questo triangolo se lo faceva sbranare poi c'era il falso break sono cose che capitano e a cui bisogna fare attenzione e tenerle conto perché appunto capitano nelle cripto torniamo a noi torniamo a noi torniamo a noi grazie mille per le tue live e i tuoi video sei un grande ma grazie a te una domanda quando capire che un impulso rialzista sta per finire esempio la crescita pazzesca di ripple e doge di questi giorni è finita o no? bella domanda andiamo a vedere doge doge btc allora per capire quando potrebbe essere in fase terminale un impulso rialzista per forza di cose te lo devi andare a vedere su un time frame ridotto e quindi c'è un maggior rischio di rumore purtroppo quando ci sono le coin che muovono per pump and dump come doge come ripple come altre diventa più complicato perché come vedi non appena c'è qualche segno di sell off abbiamo cioè è difficile andare a identificare una struttura perché se abbiamo una candela verde che fa tutto l'impulso rialzista è difficile dire quando l'impulso termina perché un conto è se hai una situazione del tipo qualche candela verde così poi candela rossa poi così candela verde continuiamo e poi hai il tuo top e inizia il ritracciamento tu hai una prima struttura qua nella zona di lateralità che se viene violata al ribasso tu puoi dire bene abbiamo il primo segno di fase di inversione mentre su una situazione così impulsiva come doge non hai un indizio di questo tipo il tutto quindi si complica quindi l'unica cosa che puoi fare è andare giù di time frame andiamo a vedere il time frame orario se ci aiuta ecco sul time frame orario ad esempio potremmo avere qualche dato in più ma attenzione perché purtroppo c'è pieno di falsi positivi su questi time frame ti faccio un esempio adesso abbiamo l'impulso rialzista vedi in essere abbiamo una fase apparentemente laterale ok quindi se questa fase laterale rompe a ribasso in questo modo è un inizio di possibile fase terminale poi qui abbiamo un po' di struttura abbiamo un clasterino che se lo andiamo a perdere è un ulteriore segno di indebolimento poi dovremmo sempre secondo la teoria un'analisi un po' completa un po' esaustiva e un po' più non incentrata sul brevissimo andare a vedere dove va a prendere l'ai perché se l'ai lo va a fare più in basso quindi un massimo più basso allora lì è la conferma ultima di inversione di struttura ok quindi questi sono i segni il costrutto di top quindi se rompiamo qua sotto l'inversione possibile di struttura quindi la perdita del primo supporto chiusura qua sotto poi il lower high quindi chiusura dopo lo storno rialzista perché dopo comunque un movimento ribassista c'è lo storno rialzista che ti segna un massimo minore del top e poi infine un lower low ulteriore che prosegue l'inversione ok questi sono i segni tendenzialmente a me piace cercarli sul time frame giornaliero però capisci bene che quando c'è un pump così repentino per forza di cose dobbiamo andarlo a individuare su un time frame intraday aumentando il rischio poi di falsi positivi quindi bisogna fare attenzione a valutare il tutto bene poi grande mailetto nel pensiero con run bravo ecco un altro un altro che era super gasato con run ciao luca complimenti per la trasmissione grazie sempre sul pezzo a mio avviso una nuova stock subisce quasi sempre un mega dump dopo un nuovo listing per poi assestarsi nel tempo spero non ne risenta bitcoin e spero di sbagliarmi ah sul dump dici non lo so guarda era un prezzo di inizio molto basso quindi oggi cioè non mi aspetterei una chiusura in rosso perlomeno che poi in rosso qui è già partito da 380 che in realtà se il listing era 320 no era mica 3 o 340 in realtà già i primi scambi erano in domanda veramente boh ai massimali vediamo come chiude vediamo come chiude allora Binance Coin salirà grazie a Coinbase a ridaglie ciao Luca scusa se mi ripeto ma vorrei veramente un tuo parere su KDA USDT grafico in generale come ti sembra KDA grazie allora KDA USDT cadena è quello di c'ha a che fare con Polkadot mi ricordo fammi vedere cadena cripto mi dice qualcosa con Polkadot o no è una blockchain ibrida non la conosco bene non la conosco bene mi ricorda mi sembrava che fosse una sorta di parachain di Polkadot che avesse a che fare qualcosa infatti Polkadot e cadena devo approfondire me lo metto nei compiti a casa facciamo così ok cadena ne parliamo prossimamente perché non ti voglio dare informazioni sbagliate il grafico è super bullish super super bullish abbiamo un doppio top qua scambiato su Bittrex tra l'altro che ricordi non uso Bittrex da lontano 2017 poi breakout senza nessun tipo di ritracciamento e adesso una fase laterale vediamola sulle 4 ore perché ha tutto l'aspetto di parte in sostegno questo cluster che teniamolo in considerazione per un eventuale entry e attenzione guardate qua c'è un mini mini cluster non so se lo vedete c'è una candelina pressoché piatta ok quindi questa mi piace come stop loss eventualmente su una posizione da prendere qua lo stop loss lo metterei qua sotto proprio per avere anche questo sostegno ecco questo cluster in sostegno in ogni caso vedo due possibilità qui la prima è la seguente la faccio a mano scarabocchiamo 1 e 1-2 triangolo simmetrico ok quindi ipotesi anche di entry aggressivo stop mettere lo stop qui è un po' un insulto però lo ammetto perché c'è sotto un supporto quindi non lo so non mi piace come impostazione ipotesi numero 2 se adesso continua così è un triangolo invece discendente ok quindi ripeto non agirei in anticipo in questo caso magari se c'è un bel flash crash da queste parti se ne potrebbe approfittare ma è una coin mi sa poco liquida perché se è solo su Bittrex non so quanti volumi abbia Bittrex appunto per poter definire una coin sufficientemente interessante allora 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 ragazzi non spammate le stesse domande 100 volte è la decima volta che leggo la domanda Binance Coin salirà grazie a Coinbase se la trovo un'altra volta ti banno ecco facciamo così perché altrimenti è un casino allora allora cosa ne pensi di NDAO mai sentito nominare in vita mia poi ho un dilemma esistenziale perché Dogecoin funziona una moneta inutile può arrivare a quei livelli per sola speculazione potrebbe il prezzo di Doge essere un buon indice di quanto si è sopravvalutato il mercato domande intelligentissime guarda Dogecoin funziona perché ormai è diventato un simbolo è una meme coin è nata per scherzo a seguito ne ha parlato Elon Musk è diventata virale sui social dai ci sta alla fine che per speculazione per gioco ci sia ci sia un mercato però sul discorso del quanto è sovrapprezzato il mercato in base al prezzo di Bitcoin è un indice che secondo me non è da trascurare perché è un indice che mostra la partecipazione retail in sostanza bellissima domanda e guarda è una cosa che secondo me vale la pena tenere sotto controllo avresti voglia di spiegarvi come funzionano i token up e down di Binance vorrei investire i miei Bitcoin in BTC per un mesetto in vista della Burran allora guarda non voglio fare il pipozzo tecnico l'avevo fatto forse parlando dei leverage token di FTX che sono la stessa cosa sono dei token in leva in sostanza che vanno in leva 3x se non erro e a fine giornata si ribilanciano per riottenere la leva 3x quindi se c'è un trend rialzista continuo è come se reinvestissi profitti perché per ottenere sempre una leva 3x a fine giornata acquista altri Bitcoin mentre se scende vende e quindi ti riduce la posizione ti riduce le perdite c'è un grossissimo però che se il mercato lateralizza ti massacra funzionano diversamente quelli di Binance dici ma mi pareva che fossero più o meno la stessa cosa se non erro o comunque la logica di fondo è più o meno la stessa perché appunto vanno a fare auto compounding e ribilanciamento a fine giornata mi ricordo che insomma quando il mercato lateralizza è un disastro quindi se tu ti becchi qualche giorno di lateralità va a finire che fanno del gran casino la leva cambia e allora ci vado a dare un'occhiata io mi ricordavo che li avevo guardati infatti ho detto ha rubato l'idea FTX mi sembrava una roba molto molto simile poi poi la casalinga di Voghera dovrebbe investire sullo stock token di Coinbase la casalinga di Voghera forse è meglio che stia fuori dalle azioni speculative cioè giorno 1 del listing andare a investire sullo stock di Coinbase mi sembra la roba più speculativa che si possa fare forse la casalinga di Voghera è meglio che vada a comprare un grattevinci che comprare lo stock di Coinbase il giorno 1 ecco allora lasciamo che il mercato lo prezzi dai adesso c'è c'è troppa fomo troppa speculazione allora 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 vediamo qualche altra domandina ti seguo da molto questa è la biangialetta sono esaltato perché è la seconda volta che riesco a seguire una live in diretta causa lavoro grande me le guardo su youtube ma non ne perdo una e anzi ti scillo con tutti bravo questo è lo spirito giusto scillare vorrei farti una domanda hai definito BNB intoccabile io sono d'accordissimo con quello che hai detto ma tu dei BNB in volt li lasceresti lì o faresti un take profit parziale e magari ribilanciamento avendoli presi a 91 sono passati ad essere il 5-6% a più del 50 allora io ti dico dipende perché se tu vuoi un'allocazione di un certo di una certa percentuale allora ribilancia non ha senso lasciarla in preda alla volatilità tu ribilancia goditi il profitto che hai fatto incameralo ed eventualmente vai poi a ribilanciarlo dopo in positivo se dovesse ritracciare se dovesse continuare a salire avresti comunque del nuovo profitto che ribilanciaresti in futuro ma senza appunto sovraesposizione io la vedo così se poi invece il tuo discorso è voglio un tot di BNB numero fisso perché mi servono per le fee per i launchpad eccetera eccetera allora cambia ma se il discorso è di semplicemente esposizione allora non starai a impazzirci allora 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 quando consiglieresti di acquistare BNB e ragazzi non dovete chiedere consiglio a me cioè non va bene se chiedete consiglio agli altri o a me di quando acquistare una cripto cioè è una strategia dovete farla voi cioè una strategia deve essere vostra dovete identificare qual è il vostro portafoglio ideale qual è la vostra locazione come andare a pianificarla se sul lungo termine se sulla speculazione eccetera eccetera quindi io vi sgrido sempre quando mi chiedete i consigli su quando comprare quando vendere perché io posso farvi le analisi però le analisi sono probabilistiche non sono per forza vere quindi se poi un'analisi va a identificare un possibile long che poi in realtà va in stop loss non vuol dire che uno deve comprare lì perché se uno punta a lungo termine e fa un acquisto che viene dato da un setup di trading di breve speculativo fa una cacata pazzesca ok bisogna ben inquadrarsi nelle strategie io ho fatto tantissimi video dedicati agli investitori di lungo termine l'ultimo con tante strategie di investimento a lungo termine alternative al pack quindi magari ci si può dare un'occhiata per quanto riguarda invece il discorso del speculativo su bnb abbiamo visto il grafico e quella è sempre la risposta c'era il cluster delle 4 ore poi si sa qualcosa sul quindicesimo burn di bnb cosa ne pensi allora mi esprimo sui burn non prendeteli come eventi speculativi ragazzi ve ne prego non dite compro bnb perché poi c'è il burn e pompa non ha nessun senso logico ok lo sanno tutti che ci sono i burn e quindi perché dovrebbe pompare non c'è nessuna ragione il burn di bnb serve a sostenerne il valore sul lungo periodo quindi è una di quelle componenti della cosiddetta tokenomics dell'economia del token della coin che ne sostiene il valore per l'appunto quindi se uno investe su bnb è importante seguire i burn e che ci siano che ci siano sempre profitti da parte di binance eccetera ma dire io compro bnb perché c'è il burn e aumenterà di prezzo sappiate che è un errore catastrofico allora allora conosci il progetto orfano no mai sentito nominare sai perché i polkadot sono bloccati come sono bloccati nello staking intendi perché c'è il tempo di sblocco se è quello ci vuole mi pare qualche un giorno due giorni per lo svincolo allora allora ciao luca hai un referral su binance si ve lo scillo ovunque dai come fate a non conoscere il mio referral su binance che dà pure il 20% di sconto sulle fee a vita ve lo lascio in descrizione su youtube nel video di youtube per i posteri poi 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 vedi lo popsicle me lo vado a vedere promesso grazie per la spiegazione sull'impermanent loss era un dubbio che avevo da molto anch'io è un piacere è un concetto molto importante poi vado a prendere qualche ultima domanda scorrendo in fondo ciao luca grafico the graph e engine andiamoli a vedere allora grt btc grt allora l'avevamo già guardato se non erro l'ultima volta andando a individuare ah guarda che roba falso breakout male malissimo vedete qua è un ennesimo caso di falso breakout noi avevamo visto che c'era questo costrutto di bottom poi era stato potenzialmente rotto ma guardate cosa è successo il giorno dopo subito assorbito quindi molto male si è andato a creare un altro pool di offerta da queste parti e quindi adesso ci tocca andare a riprenderlo per avere un altro setup long vedete che fregatura i falsi break vanno a creare una situazione che nel breve sembra l'ideale per una posizione long però poi frega chi la va a prendere in anticipo come si fa a identificare un falso break in maniera tempestiva vabbè il primo segno è la lunghezza della shadow se la shadow è lunga come il body o quasi o addirittura di più non è certo una candela bullish se poi la chiusura è vicina alla zona comunque di supporto quindi alla zona da rompere allora anche quello aggiunge un certo grado di incertezza e quindi lì forse diventa più comodo più utile più furbo andare ad aspettare un paio di conferme giornalieri in più in questo caso abbiamo avuto il dump subito dopo che ha riassorbito creando quindi questo costruttino qua a punta quelle maledette punte che io detesto tanto perché vanno a creare pressione ribassista ok quindi purtroppo poi bisogna recuperarla riprendercela tutta mangiarla tutta prima di andare a fare un'altra continuazione rialzista quindi al momento purtroppo su grt c'è questa situazione ang mi sembra messo meglio a memoria sì anche se dunque si sta formando una punta anche qui attenzione allora dunque c'è stato un po' di fomo quanto quanto ha fatto di pump insomma un 800% onestissimo no allora scherzi a parte bisogna fare attenzione perché abbiamo sì un higher high qua un massimo crescente però adesso vedo che sta stornando sta ritornando qui sulla zona su un equal low in sostanza vuole fare un equal low e non è bellissimo fare un higher high e poi un equal low perché potrebbe essere un inizio di un costrutto di top ok se viene rotto poi se viene rotta la zona di equal low a ribasso diventa molto bruttino quindi vi dico la verità non mi fa impazzire come situazione questa qua di di ange anche perché all'approccio poi qui col primo supporto non c'è stata particolare domanda quindi non lo so io al momento non andrei a cercare il long su questa coin personalissimo parere poi bitcoin sta dampando cosa sta combinando bitcoin come sta dampando meno 2% siete un po' esagerati dai meno 2% sta dampando e coinbase coinbase cosa ci combina dampa anche ah visto sono correlati i maledetti sta calando anche lui vedete c'è una speculazione atroce quindi fate tanta attenzione mi raccomando a dire io lo compro non lo compro non c'è mercato è pura speculazione ha avuto un range tra massimo e minimo che è del 50% di ampiezza attenzione davvero non fiondatevi a comprare un'azione al giorno 1 perché è veramente un azzardo bitcoin ne risente adesso noi analizziamo il grafico ok cosa ne dite tanto siamo a 50 minuti ok andiamo a vedere il grafico di bitcoin allora allora che dire bullish lo rimane non c'è niente da dire perché di fatto questo lo possiamo cancellare questo era il pool che è diventato di domanda era il pool di offerta che abbiamo rotto poi abbiamo palleggiato l'ultima volta eravamo rimasti che stavamo palleggiando tra il pool di domanda e i massimi storici 62.000 dintorni dopo abbiamo avuto il breakout e adesso vedrete che ci becchiamo il falso breakout in diretta che sarebbe un disastro il falso breakout non sarebbe una cosa positiva e vediamo un po' come affrontarlo calma nervi saldi tutti sul pezzo allora numero uno dobbiamo vedere come chiudiamo oggi perché non vogliamo rischiare la situazione tipo GRT guardate torniamo a vedere GRT Bitcoin cosa ci ha combinato questa cosa qua ok quindi attenzione non dico che la deve fare per forza anche perché è una coin che ha molti più volumi e molta più liquidità ma oggi ricordate che c'è l'effetto Coinbase quindi c'è una componente di imprevedibilità importante ambo i lati perché magari dumpa solo per l'effetto Coinbase poi si esaurisce l'effetto Coinbase e ritorna la FOMO su Bitcoin quindi bisogna stare molto attenti e capire che c'è una componente esogena che si va a sovrapporre sul grafico oggi difficilmente prevedibile e difficilmente gestibile al di là di tutto rimanendo invece sul discorso grafico andiamo a rendere questo un pool di domanda perché al momento è verde se non lo riperdiamo abbiamo avuto il palleggiamento ok il pool di questo pool rimane un pool di domanda abbiamo avuto il breakout ieri con una candela piena candela di domanda piena chiusura discretamente lontana dal supporto stesso quindi ieri è stata una chiusura convinta e bullish non c'è traccia di shadow non c'è niente di niente quindi oggi potrebbe essere visto in due modi adesso i più aggressivi potrebbero longare il retest di questo pool di domanda sotto ipotesi di appunto bullish retest e quindi stop loss volendo qua sotto un setup è questo quindi long al momento e guai a voi se mi copiate ciecamente cioè quello che dico non è da copiare usate la vostra testa io vi sto solo dicendo delle possibilità da implementare poi nella strategia ma di fatto questo potrebbe essere a un bullish retest quindi setup long con entry qua e stop loss eventualmente qua sotto o qua sotto due un falso breakout quindi se adesso chiudiamo qua dentro dobbiamo valutare un po' come inquadrare il tutto e dipende da varie cose allora il peggiore degli scenari è una chiusura sotto alla base di questa candela ok quindi se andiamo a chiudere qua sotto è un disastro perché di fatto abbiamo un engulfing bearish della candela di breakout quindi un falso movimento nel proprio nella sua peggior forma peggior specie se al contrario andiamo a chiudere una via di mezzo tipo qui allora è ancora tutto da vedere nel senso sì abbiamo avuto il falso break effettivamente però poi dobbiamo vedere cosa succede nei prossimi giorni cioè troppo presto per andare a bollarlo falso movimento bisogna un po' ancora capire da che parte vuole andare cioè se di fatto poi la domanda ritorna a galloppare finito appunto l'effetto coinbase e ritorniamo a fare nuovi massimi oppure se abbiamo follow up di offerta che ci riporta qua sotto quindi io come cartina torna sole come livello di riferimento terrei i 60.000 che è la base un po' di questa candela qua che abbiamo detto la candela di breakout questa è stata la candela di origine del movimento di rottura se la andiamo a perdere in un giorno due giorni tre giorni che siano allora è un falso break se al contrario la candela regge allora direi che la direzionalità rimane verso la domanda quindi ricapitolando in termini operativi ve l'ho detto c'è la possibilità di setup long su questo pool con stop loss sempre sotto a questa candela io la terrai sempre come riferimento o altrimenti c'è la possibilità di attendere e vedere come si sviluppa questo movimento in controtendenza quindi attendere un eventuale ulteriore leg up per poi andare a cercare di nuovo il ritracciamento o la lateralità per il setup long nel caso in cui invece assorbiamo e vabbè c'è da aspettare poi la conferma da parte della domanda altrimenti il setup long non ha tanto senso se perdiamo invece la base della candela stessa allora dobbiamo andare a vedere dove andiamo a parare e da lì andremo eventualmente a costruire la posizione ma dobbiamo vedere appunto dove andiamo a tenere i supporti perché poi è quello il punto di partenza per la costruzione della posizione stessa per adesso mi fa piacere vedere che un po' di domanda sta reagendo sul pool di domanda qui nella zona dei appena sotto i 62.000 e se regge di certo non è un cattivo segno stiamo a vedere la situazione è questa occhio alle cose imprevedibili poi diamo a dare un'occhiata a ethereum che mi ha dato un sacco di soddisfazioni perché anche lì vi avevo condiviso di nuovo il setup sul possibile flash dump dentro al pool di domanda ci è entrato dentro ci ha pescato poi ha chiuso subito qua un segnale di domanda pazzesco e oggi apparentemente ha rotto a rialzo questo range e se così fosse quindi conferma qua sopra e non falso movimento domani allora sarebbe un bellissimo segno di continuazione rialzista prossimo obiettivo 0.03856 questo livello qua se lo andiamo a prendere e se ci andiamo a chiudere sopra è una continuazione di uptrend in piena regola e poi si può andare a cercare eventualmente di comporre la posizione long con un altro entry qua su poi bnb l'abbiamo già vista che altro possiamo andare a vedere VeChain cosa combina sta pompando alla grandissima VeChain senza ritracciare nemmeno un po' vedo che ha fatto nuovi massimi storici cioè recenti in Bitcoin molto bene VeChain e di fatto pone questo ah l'ha già ritestato questo eh vecchia canaglia no l'ha fatto il ritracciamento vedete aveva oddio adesso questo è un po' ampio ma anche se tenevamo quest'area qua quindi a partire da questa shadow era efficace guardate l'ha ritestata alla perfezione che dire che dire i pool funzionichiano abbastanza dai su questi setup dove c'è una struttura chiara sono dei bei livelli da tenere sotto controllo allora ciao Luca pensi che sia una buona idea aprire una posizione long in leva 50 per su 12 io impazzisco questa questo lo devo screenshotare e lo devo lo devo pubblicare ovunque perché qualcuno di voi ha creato il nickname ha creato un account casalinga di voghera e ha chiesto pensi che sia una buona idea aprire una posizione long in leva 50 per su 12 tu hai vinto tutto casalinga di voghera hai vinto tutto io ti dico solo questo e con questo io chiuderei siamo a no dai c'è ancora un minuto facciamo ancora qualche domanda allora band e hbar per favore subitissimo allora band band purtroppo stiamo sempre seguendo la nostra solita il nostro solito scenario che va a cercare il recupero di questa area 36400 qua ok aspettate ve la mostro qua tac c'è il pool di offerta sopra che per ora ci ha schiacciati in basso vedete dobbiamo recuperarlo però non siamo tanto lontani cioè tanto vicini dal volerlo fare hbar bitcoin invece si sta comportando molto molto bene e al momento potrebbe essere una buona idea andare cioè una buona idea dipende sempre tutto dalla propria strategia come sempre andare a pescare da questo eventuale pool di domanda vedete nasce da qua non so perché l'ho esteso fin qua giù perché a me sembrava più giusto farlo partire da qua non lo so mi sarò sbagliato questo pool di domanda secondo me appunto in caso di flash dump e altre cose del genere potrebbe essere una bella zona da cui grattare stop loss invece fammi vedere un attimino qua qua sotto al range addirittura però un po' ampio però di fatto se pensiamo che avremmo quest'area di rischio e un possibile rendimento molto interessante nel caso di continuazione rialzista e di nuovi massimi è anche giustificato altrimenti ok si può anche dire se ritorniamo all'interno del range e cominciamo a chiudere qua dentro andiamo a chiudere anche la posizione dipende un po' ci stanno tutti e due sono due approcci diversi comunque è ben messo ecco H bar è impostato molto molto bene amici io detto questo vi saluterei stavo guardando se la casalinga di Voghera ci aveva chiesto qualche altra chicca 50 per su Doja mi raccomando tutti insieme e bene basta direi che ci possiamo salutare amici noi ci vediamo venerdì alle ore 18 così vediamo un po' spero avremo più chiarezza sulla situazione Bitcoin sulla situazione Coinbase come si sarà calmate un po' le acque e vediamo quale sarà la capitalizzazione reale prezzata dal mercato come reagirà Bitcoin come reagirà BNB eccetera 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 poi domani facciamo vi stavo preparando un bel video ma non vi anticipo ancora su che cosa perché vi faccio una sorpresa e nel frattempo basta io vi saluto ringrazio come sempre chi si abbona al canale vi ricordo che con Amazon Prime potete farlo gratuitamente ma dovete purtroppo rinnovarlo ogni mese è una piccola donazione per il mio lavoro vi faccio di nuovo un carissimo saluto buona serata a tutti quanti e alla prossima e viva Dogecoin e viva la casalinga di Voghera grazie a tutti